Marco Cazzelgrandi della SIAE, il patrocinio concesso al Festival della Melodia, un riconoscimento per l'intensa attività protratta negli anni da questa manifestazione che offre l'opportunità gratuita a tanti giovani di esibirsi. SIAE dà il proprio patrocinio a molti eventi di importanza nazionale, non lo dà tutti perché il nostro Ufficio Promozione Culturale fa un'istruttoria, valuta l'importanza della manifestazione, la qualità e anche la storia della manifestazione stessa, nonché la serietà degli organizzatori con particolare riferimento al rispetto della proprietà intellettuale, al rispetto del diritto autore che è molto importante per chi organizza festival soprattutto musicali e questi sono tutti requisiti ben presenti nel Festival della Melodia per cui sono molto contento che ci sia stato questo riconoscimento nei confronti di questa importante manifestazione abruzzese. Nel Festival della Melodia in passato hanno cantato e si sono esibiti artisti di caratura internazionale come Piero Mazzocchetti, Gio di Tonno, Gianluca Ginobble, ecco lei ha visto questa sera che è stato in giuria qualche giovane in grado di ripercorrere le gesta dei loro autorevoli predecessori? Beh diciamo sicuramente questa sera abbiamo ascoltato un'offerta musicale di qualità, questi sono palchi molto importanti perché consentono come ha detto la vincitrice ai giovani di farsi le ossa, non esistono solo i talent per cui la funzione di festival come questi che poi Festival della Melodia ricordiamolo è un festival itinerante per cui contribuisce anche a valorizzare il territorio, ha una funzione ancora più importante, sono per i giovani importantissime occasioni, anche chi ha talento ha bisogno di occasioni per poter dimostrare il talento che possiede. Insomma oggi si è divertito? Sì mi sono divertito e poi è sempre un piacere poter ascoltare la musica dal vivo in una sala concerti o in un teatro, speriamo che questo virus ci dia tregua e ci consenta di poterlo continuare a fare.